ra perché devo scaldare 2 mini 500 abarth dietro riscaldati cosi scaldare ma io c'ho le termiche, si cazzo devo scaldare dietro abbiamo una 500 Abarth eh, dietro la Mini c'hanno 180-200 cavalli adesso si vuole non va mai 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 Sì, c'è un po' di due brecce, tu sai? C'è un po' di due brecce. 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 Due brecce. Un po' di 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 due brecce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.